Ben ritrovati su Video Sicilia, riparliamo di Alcamo. Il Partito Democratico dice no alle variazioni nelle opere triennali. L'intervista al consigliere del PD Filippo Cracchiolo. Variazione del piano triennale, lei ha votato contro, come mai? Io credo che la priorità andasse data alle opere di urbanizzazione primaria, che altro che non sono, che è la realizzazione di rete fognare, rete idrica e stradale. Anche in questo piano triennale delle opere pubbliche si è preferito dare la priorità ad altre opere che io non ho condiviso, non ho condiviso nel merito perché si tratta di scelte politiche. Non si può dire che il rilancio di Alcamo Marina passa alla realizzazione di un parcheggio che può essere tranquillamente lasciato alla libera iniziativa del privato. Soprattutto a fronte di un'amministrazione che non è in grado neanche di gestire l'ordinaria amministrazione, penso al busto navetta, penso alla realizzazione della segnaletica orizzontale d'Alcamo Marina. Quindi non c'è niente da prendere da questa variazione? No, non ho detto questo, semplicemente ci sono assolutamente delle cose buone, penso agli impianti sportivi, io sono componente della prima commissione e più volte abbiamo sollevato l'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti agli impianti sportivi, quindi Palatenda di Via Verga, Palazzello e in questo piano triennale delle opere pubbliche vi è una forte attenzione agli impianti sportivi. Quindi bene da questo punto di vista, male per quanto ho sottolineato prima. C'è anche l'attenzione alle strade, anche alla conduttura idrica? Alle strade, alla conduttura idrica, sempre con gli avanzi di bilancio di quelle che sono le macerie delle amministrazioni precedenti. Io non sono in alcun modo legato al passato, però è un dovere da istituzione, da consigliere comunale dire le cose come stanno. Allora questi soldi da dove vengono? Dagli avanzi di bilancio e dai ribassitasta. Dagli avanzi di bilancio.